Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Inghilterra, questo è un momento storico, al di là dopo delle possibili polemiche, se l'agenzia regolatoria britannica abbia o meno avuto troppo fretta nell'autorizzare la campagna vaccinale, quindi i vaccini che verranno utilizzati, perché è importante? Perché è un momento storico, effettivamente un vaccino che, uno più vaccini non esperiamo, sembra avere una efficacia particolarmente elevata, ricordiamoci c'è più di un vaccino che ha mostrato un'efficacia, perlomeno per quanto è stato riferito fino ad ora, da interim analisi, dalle dichiarazioni delle aziende, delle compagnie che li hanno prodotti, ma anche evidentemente dal review che è stata fatta dall'agenzia regolatoria, non credo che l'agenzia regolatoria britannica abbia a cuore leggero, come dire, dato questa autorizzazione, è un momento storico quello di avere un vaccino a disposizione e cominciare una campagna come questa che si preannuncia come la più grande campagna vaccinale contemporanea.